C'è un po' di gente davanti a questo cancello che manifesta contro Rufus Mo, mo, capisco la frustrazione di queste persone Però dai, c'ha un po' di lati positivi, Rufus, tipo che è uno gnocco incredibile Tipo che è uno gnocco incredibile Ma, com'è che se sale, dicevo, com'è che se sale verso... Eh? Missione principale, qua sotto Ok Ok Io mi fido Io mi sto fidando del punto blu in mappa Ha! 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 Il delfino! Saliamo a Junon con l'aeronave? Sid! Duh! Duh! Il delfino risolve i problemi Cloud! Ascolta la bambina parlare del delfino! Harry ti è innamorato della bambina, palese Cioè, il delfino ci lancia? Io! 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 Dai! Più entusiasmo per il delfino Cloud! Sì 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 Raga, ma la sessione di gameplay di oggi inizia stra bene Ma ste frecce? Ma ste frecce? Allora, fai diventare il delfino Fai divertire col pen dei palloncini Lungo il percorso In cambio ti farò fare un bel volo In una sala di controllo Più palloni fai volare Più il delfino A questa velocità Ma che cazzo stai a dire? Nomura! Nomura! A cavallo del delfino! Scoppia il palloncino! Che devo... che devo fa? Non ho capito! Ah! Ok! Aspetta! Aspetta! Ricomincio! Ho preso lo stacolo in pieno Ricomincio! Ho capito, ho capito, ho capito! Era poco chiaro Vai Cloud! Ah! L'ho mancato! No! Mi rifiuto! Mi rifiuto! Mi rifiuto! Mi rifiuto! Mi rifiuto! È bellissimo! Vai! Come si chiama il delfino? Dove devo andare? Dove devo andare? Aaaaaaah! Ahahahahahah! Ops! Dai, istruzioni poco chiare! Istruzioni poco... Va in culo! Tira, delfino! Ah! Ma fa le derapate, il delfino! Ma dimmelo prima! Scusate! Fa le derapate, il delfino! Non devi farlo perfetto, lo dici tu! Fa le derapate! Fa le derapate, il delfino! No! Oh le... Oh le... No! No! Faccio gagare! No! faccio cagare abbiamo capito non capisco un cazzo fatto schifo alla fine della piera comunque grazie carino almeno si è divertito con pure la spy bravo amore mio intanto fai vedere di essere entusiasta di quello che succede nella vita allora salati controllo spingiamo l'elettricità azione agro ok no niente l'elettricità dai è stato carinissimo il delfino nava pronta no alla sirenetta questa roba dio che bello è il più grosso barretto della nave e red è terrorizzato bellissimo ciao delfino ciao delfino vai cloud vai ecco quanta verve bravi 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 ve lo ucciderai il mio entusiasmo del delfino junan ma cos'è un cannone buongiorno è lui è lui è lui è lui palese è lui bello bello de mamma rufus madonna mia madonna mia madonna mia che roba incredibile oh ci sono emozionata ci sono pimpante ok tutto apposta è arrivato l'ufus tranquilli voi giocate con il delfino non essere stronzo Sasuke non essere stronzo un po' di parsimonia allora allora c'è niente da queste parti non mi sembra vieni a giocare a fantasy giochi con il delfino appare l'ufus ti sfido a non essere pimpante vai io mostralli non credo che ce ne siano da queste parti cioè non avrebbe molto senso però drop si ma come loro non dicono un cazzo ma vabbè ciao siamo ricercati comunque eh l'hai visto te l'hai visto è grande non è rigida per niente oserei dire che non gliene frega proprio un cazzo di voi ma niente oddio dimentichiamoci la nave prendiamo quella vabbè cazzo ci famo sì però la mia domanda è una cioè lì ok no non ci sono non ci sono i capoccia però io devo provare cioè nel senso scusate noi siamo ricercati siamo su tutte le bacheche meglio non avvicinarsi se mi avvicino no mi porta indietro beh beh ha senso cazzo siamo ricercati e comunque andiamo in giro come ci pare mi sembra un po' un po' troppo un po' troppo ciao basilio questo momento non so stanno partireci e torno stasera va bene va bene non ti preoccupi non ti preoccupi ci vediamo più tardi my red coppet my red coppet ciao siamo ricercati quindi devo andare sul red coppet sul red coppet ma non ah ok lo scavalco pazzesco un po' di foto per per la stampa scusate io qua ho un ho un simbolino ah perché è un ascensore si ho capito non si capisce però che è un ascensore cioè nel senso c'è un aereo in questo cazzo di ascensore che cazzo di ascensore è va bene questo lag questo lag wow ah quindi gli hanno detto che ci sono gli intrusi sei bello amore madonna madonna devastante devastante è questo chi è a piedi nudi qualcuno che lui ha ucciso ma è ancora vivo no è morto chi cazzo è glen è morto è morto non c'è quello che è fan non c'è il mondo L'abbiamo fatto così, eh? Ma è matto, mi piace. Lui ha capito, noi no. Ma quindi è morto e vivo, quindi. È un Numen? Boh, vabbè. Io continuo. Io... Giro turistico. Vi rubo pure le cose. Ma secondo me da questa parte ci potrebbe essere... Niente, non mi ci mandano. Pensavo ci fosse qualche cassa alla fine. Un po' così, un po' nascosta, un po' no. E provare da quest'altra parte. Cosa c'è? Delle scale! Oh, vedi, oh, vedi che qualcosa c'era? Me lo sentivo. Ho un sacco di sordi. Ruba, ruba la scindola, ruba. E quando si attiva il sesto senso da loot? Quando si attiva il sesto senso da loot non mi ferma nessuno. Comunque siamo ricercati, sì, sì. Specialmente tipo Erit, che qua dentro dovrebbero conoscere tutti. Tutti. Bo, Cloud c'ha... L'abito da soldier. Ti devo dire, ti devo dire che... Un pochetto se camuffa, ma tutti quell'altri? Minchia. Comunque a Rufus gli hanno detto che siamo arrivate. E infatti ha detto lasciateli fa. Ma tipo a loro... A loro il sentore che è una trappola, no, eh. Adam, quello è il capitolo 10? Mo' lo raggiungo. Non è un pochetto. troppo entusiasmo se ne va no però sto ascensore un po' più capito se poteva fa la parada Barrett vuole ingacciare Rufus eh due cazzotti a Rufus va bene perché inziamo un bel carro le ultime parole famose io voto l'irruzione alla parada ma come infiltrazione no noioso no noioso irruzione irruzione capo di cloud zumba zumba ah volevo fare irruzione stanno andando a fare irruzione loro queste si attaccano ogni volta dica step ma loro stanno andando a fare irruzione voglio fare irruzione anch'io voglio fare irruzione anch'io nooo perché a me mi lasciano sempre con le donne che si fa prendere la gatta? e soprattutto sei sicura che non è del palazzo? sì hai capito cloud che così un po' tonto stava andando nello spogliatoio cioè capito lui è rincoglionito ma fino a una certa è rincoglionito ma fino a una certa capito stava tentando stava tentando e tanto mica ti dispiace erit piamo l'uniforme da soldato quanti ricordi ma vaffanculo vai quanti ricordi oh cos'è? un gioco questo? vabbè dai non come niente male aveva fatto la battuta mi avete preso ma dai ma pure quando ma pure quando cloud è simpatico i sottotitoli lo fanno sembrare noioso questi però effettivamente sono ricordi suoi cioè capito lui era un soldatino di merda giusto questi ricordi poi tutto il resto è sfalzato posso uscire? cloud è doioso sì però ogni tanto lo sprazzo della battuta simpatica c'è là ogni tanto se gli tolgono pure quello che te guardi di merda Oh no, minigioco, guarda No, devono copiare loro, non so dove fare un cazzo Ti ricordo qualche boss Oh Gesù, che cosa sto per fare Oh Gesù, che cosa sto per fare Buongiorno se sbagliarmi il gioco Mi avevo fatto esattere vecchi In questo momento stavo ballando con Cloud E' il mio petto preferito Adesso guarda che merda mi docca fare Allora premi una volta più volte E tieni premuto Ok ho capito tutto tranquillo Premo Sto vedendo Esercitazione Dai Cloud di esperienza Grazie a tutti Ma che cazzo sto a vedere Ridatemi il mio petto Ridatemi il mio petto Oh ci sta a prova lei eh Era un bravo soldato Cosa? Come guido la parata Irrusione Irrusione Non era un grado così alto A suo tempo Ha fatto più che Rai in 5 minuti adesso Che prima Poi quella Quella chiusa Fanno le reazioni E pestano l'acodo Oh no Bella lei eh Pronti 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 Allora Per la formazione Per la formazione È necessario Non almeno 5 gruppi Difanti A seconda del corpo Le due Puede cambiare la formazione Che cazzo devo fare Non ho capito Che devo fare Io Devo reclutare la gente Devo reclutare Ma che sto Ma che sto succedendo Ah è il piano Cioè adesso facciamo Una gara tra plotoni E dobbiamo vincere La gara a peste E previati da Rufus E quindi avvicinarci Ma non ha senso Questa cosa Brava Erit Complimenti Hai capito Vai Usa lo charmer Aduna i soldati Ok Devo trovare 10 fante E tu Vuoi da dire I tuoi compagni Passare da noi Cioè Cioè ma ci abbiamo Un esercito Ma se li Raduna a gruppi Abbiamo un cazzo Di esercito Attacchiamo Dei mongoli Nel senso che vengono Dalla Mongolia Eccoli 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 Vai Presi Ah no Questi sono i miei Vaffanculo Scusi Se ti levi Mi voglio mettere io Voglio mettere io Mi voglio mettere io Al posto del cane Niente Pa 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 Non c'è un cazzo Da queste party ah li ho trovati erano al bar questi stronzi il casco il casco lui si è scalato nella parte in modo perfetto born to be praticamente se sona? se canta? Elena Elena via 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 che ci sta erano quella si gira ci riempie di mazzate via 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 qua non ho visto niente io non ho visto niente travestimento perfetto questi sono i miei guarda quanti sono ma possiamo conquistare tutto c'è parlare via pa 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 ra pa 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 è rude non è rude sono presa testate cosa cazzo è è rude questo è la prima volta se vuoi piacere con noi dovremmo prendere i helmeti no servis Sì, che stai aspettando? no io volevo bene a Rude io volevo tanto bene a Rude, io amavo Rude però adesso è sceso di minimo 10 punti il bar del calvo no, non è vero comunque non mi potevo togliere il casco sia perché il calvo c'ha un sacco di capelli ma sia perché Rude ci conosce il bar del calvo ma io non... io... boh questa fenix gliela risparmio oh, armeria vai, fammi spendere un po' di soldi, va fascia selvaggia a un passo dagli essere scamati niente, posso comprare queste due cose e sai che ti dico che le compro tutto il resto ce l'ho ho trovato tutto sono proprio brava io non so adesso se questo posto è lo stesso di Final Fantasy XS Core dove c'erano quelle scene incredibili bellissime di Sephiroth che combatteva con Genesis e la madonna quanti siete con Genesis e Angel potrebbe essere lo stesso posto il cannone quello è però bu ah ok c'è un'ora di indietro sorry 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 non ce la faccio tu tu qui si stanno a fare le foto si stanno a fare le foto col cartolato di Rufus ti prego ti prego ti prego brago 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 ma cos'è il capitolo delirante questo e a me che me la fa la foto con Rufus allora tra i gruppi è 5 di 10 ma ahhhhhhhh Adorable Abbiamo anche un esercito Abbiamo anche un esercito Non lo so Non lo so ragazzi è tutto così bello E allora io non so se posso Arrivare effettivamente a 10 gruppi In quest'area Però io in un altro giro me lo faccio Un altro giro me lo faccio Non vorrei perdermi qualcosa Qua c'era già andata Dio non riesco a uscire Caserma Ah qui ci stanno altre due No Non li posso Prendere Ah perché ci stanno certe perle A ste parti Guarda 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 Ci stanno certe perle Solo nove Nove cosa No intervistato no Ti prego No intervistato no Intervistatece incredibile 6 di 10 Ok quindi si può arrivare a 10 No io devo arrivare a 10 No è diverso E intanto rubiamo C'è l'altro piano Eccoli 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 Ma i cartellati di Rufus Mi sono piegata in mano Che fosse Rufus E ho detto What the fuck Vai Ah eh ti do un pugno Ok Ok 7 Ne mancano 3 Faremo una parata bellissima Uuuuuh Ah Infuso rapido Cosa cazzo è E della troca E della troca Dobbiamo visitare bene Gli edifici Pa 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 Bruna il naso Qui sta parlando male Deme I don't think so Qui non mi sembra ci siano edifici Dove posso entrare A meno che non posso sfondare No E qui e qui e qui Ci sono già entrata Era il negozio Se è un altro negozio Un negozio di baterie Un dolce acquisti Per il momento io no Mi bruda tantissimo Mancano due gruppi Dai dai che ce ne facciamo Commerciante di urgenti Compra Ah no aspetta Compra Un po' di cuscini Vai Fammi vedere che c'hai Compra Tutta roba che io già ho Fai schifo come commerciante di materia Oh Oh my god I bambini hanno cercato Red E certo che lui ci riconosce I bambini hanno cercato Red I don't know Questa è la caserma Minchia Sono uscita Prima non l'ho visto Com'è possibile Di qua Distaccamento di Junon Direi che qua Trovo i miei ultimi due gruppi Sì però Discrezione Sta da buttare tutto per terra Sto studiando Vaffanculo Rubo 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 tutto Adesso sta a fare la cacca Oddio Dei mici E questo che ci fa qua È riconosciuto perché va scannerizzato Eh ma non c'ho Abbastanza punti Allora Sopra Non c'è nessuno Sotto Stai zitto Chadli No Aspetta 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 Lui 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 Bravo Bella risposta Ilaudo Seguitemi Andando tutto bene Mi manca uno Io farei una formazione Dalla di gabbiano Comunque Dai cazzo Allora Ne manca solo uno Ne manca solo uno Non posso interagire con niente Nascosto dentro qualche casa Avete visto dei fanti? Per favore Qui c'è il bar Ego Elena che piagna Ego mi ho fatto a perdere Guarda quanta gente Qua dentro ci sono stata Qui ci sono i negozi Lì c'è il bar Ma ci ho parlato con Elena Solo che assorta Dei suoi pensieri Grazie a Dio E no E loro stanno fuori Pa 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 Non vorrei che un gruppo sta C'è indietro Vediamo se mi fa prendere l'ascensore ok no perché su è dove devo andare con tutti i bimbi quindi sta qua anche se no non devo andare là devo andare avanti no questa è la caserma qui c'è Barrett ci deve essere un qualcosa dove si può entrare non sono entrata qui ci sono entrata sono passata da sopra dai cazzo non mi possa rendere un gruppo mi viene attacco di panico se mi arrendo per uno dai davvero dove possono essere 6 ore e 50 lo so ma non me ne manca uno non me ne mancano 150 me ne manca uno 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 voi non volete venire con me ricontrollo non vorrei che sta avanti ma non credo che sta avanti non c'ha senso non c'ha il minimo senso sotto c'è il bar e al bar li abbiamo presi qui non mi fa entrare qui non c'era un cazzo mi bloccavano i don't think so qui mi bloccavano qui l'ho già presi qui c'è il bar magari devo interagire con qualcosa non lo so nooo dai mi devo arrendere dai mi devo arrendere a meno che non c'è qualcuno che è tornato nello spogliatoio se non trovo niente vado avanti a parte che guarda che cosa ho trovato giubbotto corazzato no dai niente mi rendo non so dove cercare ho guardato non ho visto devo dire che ti devo dire che mi girano i collons però ci ho provato a fare un paio di giri aspetta magari stanno nascosti no eh no magari stanno nascosti di qua no ma fa il culo lo mura non fa il culo lo mura siamo prontissimi cambiamo formazione oddio 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 non ho capito va bene dove sono finite erit e ti va ah sono apparse lì tranquillizza le persone cloud vai motivazionale grazie erit vero verissimo sono d'accordo per la gloria ma che cazzo succede le memorie di zack zack motivazionale zack motivazionale ma che cazzo va in una guerra e ha distrutto una spalla bellissimo 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 Eeeh Rubus Guardalo Ma guardalo Che sei la regina Elisabetta Bellissimo Un angelo Ah si spara Si spara Per botto Che bello ha sparato Ciao Come va Come va il viaggio C'ho sonno Riposate E poi svegliati Hai pagato per stare lì Sei in vacanza Lui giustamente Ha visto il cannone gasperale Ha detto eh 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 Ma come ancora Non sei arrivato Jogger Fa santa pazienza Ma Cristo Ma non è possibile Signori Ci siamo No Non ero pronta Porco Non ero pronta C'è Non ero pronta Sì Non ero pronta Sì Parco! è piaciuto è piaciuto sono appena arrivati hanno già visitato e certo non c'è tempo la donna lo zooma su cloud porco porco ho fatto cagare porco eh abbiamo pure sparato cazzo salute sono costretto no come costretto da vendi a ride giocherino pronti pronti ooo bellissimo Marco Wow Siamo stati bravissimi Abbiamo vinto Vandava a Pielarri dentro del ligno Era più bello l'esibizione di danza Con l'apetto, non c'è niente da fare Rush Che number rush Esibizione incredibile Mai vista Pazzito, pazzito Non muro qua Zengone così appare Bello de mamma Meglio questo e il ballo di merda No, meglio il ballo di merda Che siete Uh, l'ho riconosciuta Che te pare? Cioè, eh, mica è scemo Zeng Con che suoneria me lo stai dicendo Non si sono accordi di niente Ciao Talin Ma non è una trappola Che tranquillo, Cloud Hai la situazione in pugno Che Che da l'ascche figo, mamma mia! Guarda Roche Non abbiamo vinto Ha vinto Roche Ma scusa Bravo Best in the world Vai Firmami tutta Quelle si sono diventate Competitive Bravo 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 un po' spazionale qui bravo, bravissimo si affrende il cuore oh Sasuke di nuovo abbiamo vinto abbiamo vinto ma in che senso mi fa la posa del vecchio per la parte dei vecchi per la parte così bellissimo bellissimo la posa la posa non è una trappola Claudio tranquillo grazie a tutti Perchè non confusa l'emozione Tutto secondo i piani Barrett Tranquillo Yuffie No No Mi arriva un asciuto Pazzesco Stand down You are a fascinating individual Cloudstripe Your file was as gripping as it was enlightening Which is why I have a proposition for you At present Midgar requires my full and undivided attention The city is Shinra's beating heart Its devastation is a humiliation And the world must see us rebuild To that end I need to refocus my efforts And push certain duties to one side Get to the point No I'm sorry I'm So what You're gonna let us go Just like that Yes Provided you keep your distance from Midgar That is No more stirring the proverbial pot Stiamo patteggiando con Rufus Because I have a new vision for Shinra So we go free And you get Ciao Ciao Anzi Ciao Basta Me ne arrivate Saffirat è morto Ma non dire le cose Ma non dire le cose Oh no Oh no Oh no A parte Yuffie Mi fanno giocare con Yuffie What What Ok Ok Mi state mettendo in lista Per la Royal Rumble Si Se no Botte Ansia Ma ti rendi conto di ieri sera Che imbacciae l'hai fatto Vergognati Che te fatti No Tu 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 Ah E' venuto Lo stesso O C'hai avuto problemi C'è stiamo collaborando A me va bene collaborare con Rufus Mi va benissimo collaborare con Rufus Che scherzi Meno vale Meno male Meno male Meno male ma odore il caffè è così quando per esempio il caffè è distante serve concentrazione no ma lo salvano Dio non ho capito ma lo salvano quasi però eh e niente io ho fatto un macello niente è zombato d'accordo rush madonna la battaglia con rush ti prego no dai è zombato d'accordo ma che dici Miro è l'assassist grid i miei bro oh mi riporto la sfada no Grazie a tutti. Eeeh... Sei proprio insisti. Sei proprio insisti. Mad! Non ci provare mai più. Non ti parlo più. Non ti parlo più. Sappilo. Non da retta a Rick Bozza. Non da retta. Abbiamo un esercito, boys. Abbiamo un esercito! Ti tengo in maniera fino al 2000 e mai. Non ti parlo più lo stesso. Non si dicono le cose brutte come Zack. Zack è buono. Zack è bello. Zack è forte. Zack è competitivo. E' Rick che è un deficiente. Allora, fullino. Abbiamo un esercito. Sono contenta. Città in allarme. Accordo con Rufus saltato. Direi... A posto. Uh... Ho una nuova spada. No, no. No, ti parlo più, Mad. Giurin, Giurello, non ti parlo più. Ah, non possiamo cambiarla in realtà. Perché il lampo infuocato non lo sto usando. E quindi non l'ho sbloccato. Quindi mi attacco Arca. Eh... Sì. No, sblocco l'ampo infuocato. Rimango così. Non vi faccio spoiler. Ciao, Mad. Scappa, scappa. E non farti vedere mai più per dire queste stronzate. Guarda, se mi dici Cloud dei coreani la risposta te la do. Se mi dici Zack, non te la do. Aspetta, aspetta. Ma io... Non ce l'ho. Scusa, eh. Abilità. Ah, lampo infuocato. Ma è un po' simpile che me la devo andare a prendere, sta cosa. Le devo andare a prendere. Lampo. Bello, bello il lampo infuocato. Devo andare un po' a spulciare le azioni rapide. Direi proprio di sì. Abilità. Lampo. Abilità. Lampo. Pa, 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 pam. Allora... Da questa parte. Apri le porte. Ma io e i soldati siamo una cosa sola. Ma tu mi lasci andare, eh? No, non è stato quello. Tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Oh. Mi ha dato un oggetto. Bravo. Un soldato onorevole. Vai. Vai. E abilità. Lampo. Lampo. Para, 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 pam, pam. Abilità. Lampo. Abilità. Lampo. Eccidiamo, eccidiamo. Da questa parte? Da questa parte. Da questa parte. Non facciamoci ingannare. Claudio li sta ingannando. Letteralmente rimarranno troppo disdati questi soldati da questa situazione. E... Abilità. Lampo. E abilità. Lampo. Non toglie molto sto lampo, eh. E abilità. Lampo. Lampo. Sanjoker da Padova. Jokerigno. E un po' di collaborazione. Su. Su. Resisti. Ciao Rick. Buona cena caro. Da Padova. In genere. I Santi da Padova sono i migliori. Se so, perdono. Non mi ricordo dove sei. Padova era un buon compromesso. Bravo. Hai tipo un po' mancato il bersaglio, eh. Cioè, i soldati un po' mezzi morti. Papam. Sto tornando indietro? O sto andando avanti? Sto andando avanti. Per dubbio ce l'ho, eh. Sto tornando indietro. Ecco. Sto tornando indietro. Sto tornando indietro. Un genio, un genio, un genio. Ciao Saskia. Più tardi, più tardi. Ok, era qua. No. Si è visto niente. Si è visto niente. Formazioni. Bla bla bla. Bla bla bla. Burghetta di oggetto. Pam 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 pam. Mi stanno dicendo che fra un po' c'è una boss battle incredibile o... Me le danno... Questi oggetti me li danno per sicurezza. Cazzo. Fogliato. Abilità. Proviamo con il lampo infuocato. Carino, ma purato. Lampo. Lampo. Ahia. Ahia. Abilità. Lampo. Abilità. Lampo. Bello. Ci sono il soldato. Abilità. Lampo. Cazzo. Ma c'è un modo di salire? No. Ege. Ma io non ce l'ho... Fulgor. Credo. Non lo so. Muoviamo. Ege. No. E allora continuiamo con il lampo infuocato. E... Abilità. Lampo. Lampo. Abilità. Ventosa. Gerita. No. Vado in assetto pesante. Ok. Lo mando in estremo. E... Limite. Ma vai un... Una bella zappata limite. Si è evoluto qualcosa. Yei. Yei. Stanno morendo i miei soldati però. Io ci sono affeggionato. Resistete ragazzi. Resistete. Ok. La vedo l'arena. La vedo l'arena. Riuscite a fermarla. Mi è morto un fante No Amico mio No è morto un altro fante E abilità No Ok Andata Sono arrivati in tre Ehi bro Sbagliato Cosa zompi là sopra Ok vai Refulla Ma refullo anche I miei fante Ora lo scopriamo Aspetta che si acquista Con gli sconti Senti Io tre code me le porto a casa Tre code me le porto Oddio Rosso Ti prego Oh Oh Splendido, splendido, splendido. E tu e eu, somos legionários vivos. Tenho isso. A gente está lutando, os dois de nós, juntos de novo na longa vida. A gente está lutando, uma duela para acabar com toda a duela. Estamos lutando ou o que? Vamos não ficar em frente. Temos que sete a stage. Primeiro, a música. Vamos não esquecer as direções. Eu amo. Eu amo a folia. Sim, mas esta vez eu não o trabalho. É matto. Ok. Ok. É um cara mancato. Ok, ele corre sul muro. facca devo mandarlo in estremo velocemente vai dai per poco e ho sbagliato un bel po' di cose tra cui abilità l'ha un po' impugato è passato di fase passato di fase il mio ragazzo è lisio deve dare un reculino a cloud oggetti pozzine vai ok aspetta che invoco un bel moguri ad aiutarmi vi prego fa qualcosa ma sto noto facca sto a mandare a buio troppi attacchi devo repullarmi ok parte l'attacco del ciocomoguri rush ha salito dai moguri meraviglia dai moguri dai ciocomog mi frega mi frega quella cosa e vai in estremo c'è andato c'è andato c'è andato c'è andato e limite nei denti nei denti nei denti freda c'è andato piano Piano! No! Gli ha tenuto in due la moto! E' un disastro! Piano! Chiricano! Grazie a tutti. Nell'isir. Quando vuoi tesoro. Quando vuoi Rosh! Bello! Bello! Mi dispiace per la moto comunque. Giuro che mi dispiace. Aspetto il prossimo modello. Bello! Sono contenta. Sono contenta che la boss battle finisca così. Oh! Un sacco di soldi! C'è un po' di scorte di materiale. È peccato. È peccato. È peccato non farle. Con le definisce a go-go non si buttano. Con calma però. Non che venga rellato tutto quello che c'è. Citran della posa a cena. Ciao giocati! Sì. Oh. Sì. Oh. Giallo è impazzito. Stava la mattina tutto triste. Ma è impazzito. Deciditi. La luce del sole. Nel senso mi sono arriso. Ok. 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 Non è vero mi dispiace che sono arrivati allora in pochi dove sono morti se mai farò una seconda run darò tutta me stessa per farli rimanere vivi comunque si sono dalla parte dell'aggressore cioè più o meno fare la stessa mananza che è certo è certo come si chiama c'è già l'odio non so allontare questi commenti così giallo questi commenti pieni d'odio per fare le battute bocciati bocciati allora situation niente speravo che qua c'era qualche tesoro cloud ricerca di tesori sempre e comunque niente devo ricongiungermi non è possibile che non muro a quan ci ha ficcato niente mi sento scammata rrrred ciao rio non è impronunciabile va non l'avevo non l'avevo mica visto ah willow non mi sembra impronunciabile cioè fanno i controlli e fanno passare i mantelli neri senza documenti è un po' assurda questa cosa tutte persone normali e poi i mantelli neri prego passi salga pure ci ha detto ci ha detto vanno shinra si stanno ambarca si stanno ambarca tutti buongiorno fenix te sei perso rufus te sei perso roche torna a dormire va c'è aperto come ti permette nooo Allora a questa A questa gli era stato affidato Gli era stato affidato Cloud L'altro Cloud Quello con Zack Dove l'hai lasciato Dove sono veniti Gli altri Zack e Cloud Vedi ero stato C'era Belli C'era Nome C'era Tamina Crocerina Capetto Sto male Sto male Ti prego Well that looks Odd C'era Sì C'era 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 un po' di perlustrazione niente ogni volta ha cerchiato dai bambini Red amore i viaggiano i bambini ti farei e ti inciuciano erit tutto a posto cosa ti impicci per l'amore di Dio eh lui vabbè stavate parlando di me no Cloud no no proprio no eh beh è lì sul cazzo è un po' di siiii il tornado di reggì la rossa Tutti si fiondano al torneo Sti cazzi La Shinra Se hai fionato il torneo di Regione Rossa Uhuu E bene 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 Direi che ci fermiamo Un attimo E riprendiamo Capito?